La nostra idea è Abba Insieme, è un nido basato totalmente sull'Aba che si riferirà ai bambini con autismo dai 2 ai 6 anni, effettuando degli interventi precoci e intensivi. Ecco, in che modo decidete sul valore sociale, insomma, del vostro terreno di riferimento? Attualmente le attività rispetto ai bambini con autismo sono divise in due, un nido a parte e un intervento terapeutico nel pomeriggio. La particolarità di questo progetto è quella di unire le due cose e far sì che effettivamente si ottimizzino anche le risorse delle famiglie dedicate a quest'ambito. Ultima domanda, la ricaduta sociale di questa attività qual è? Ovviamente effettuando un intervento intensivo e precoce sarà possibile creare un intervento efficiente e molto più efficace perché i bambini dai 2 ai 6 anni sono proprio come delle spugne.